Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori è chiuso il tratto tra il Vivio per la variante di Valico e Aglio. E sempre in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e rallentamenti tra Prato Ovest e il Vivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla tangenziale Ovest di Siena per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra Siena Nord e Siena Acqua Calda. A causa dei danni del maltempo sono ancora chiuse la statale 2 Cassia a San Quirico d'Orcia, la statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano e la statale 62 della Cisa a Pontremoli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!